Ciao a tutti amici di Sasha & Money, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre mi raccomando prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi andremo a vedere un miner di Litecoin che ci permetterà appunto di guadagnare questa cripto in modo veloce e assolutamente gratuito su Fawcett Pay. In realtà esistono anche altri miner, come dire, dello stesso sviluppatore. Esiste anche il Dogecoin, il Bitcoin e il Bitcoin Cash. Però ho notato che spesso gli altri miner non funzionano. Quindi io sono riuscito a testare questo di Litecoin, ho visto che funziona e quindi ho voluto condividerlo con voi. È molto semplice, una volta che sarete su questa pagina, io come sempre vi lascerò tutti i link necessari in descrizione al video, basterà fare direttamente il login con il nostro wallet Litecoin di Fawcett Pay. Quindi andiamo sul nostro caro Fawcett Pay, sezione Deposit, andiamo a ricercare Litecoin, copiamo il nostro wallet e facciamo il nostro login. Una volta entrati nel vostro account, vedrete subito che il vostro miner inizierà a lavorare, quindi minerà pian piano i vostri Litecoin. Nel mio caso è fermo perché, come potete leggere, ho raggiunto il limite massimo giornaliero che la versione gratuita permette. Quindi cosa dovrò fare? Dovrò semplicemente andare a prelevare, il mio balance in quel caso si alzererà e quindi il miner riprenderà a lavorare e domani farò la stessa cosa. Praticamente, dette in parole povere, ogni 24 ore il miner si bloccherà perché raggiungerà la soglia massima prevista per la versione gratuita e quindi ogni 24 ore noi torneremo sul sito e andremo a prelevare gratuitamente i nostri Litecoin senza fare alcuno sforzo, senza fare assolutamente nulla, guadagno assolutamente passivo. È possibile anche depositare per aumentare la velocità di mining, però io sconsiglio vivamente questa cosa perché, come ho detto più volte, quando ho parlato di siti in cloud mining, questa tipologia di piattaforme tende a sparire nel breve medio termine, quindi qualora andassimo a depositare, quindi ad investire qualcosa, rischieremmo fortemente di perdere le nostre cripto, quindi di perdere i nostri fondi, di perdere i nostri soldi e questa cosa a noi non piace. Quindi il mio consiglio è rimaniamo assolutamente nel gratuito, sfruttiamo il piano gratuito che ci dà un minimo di potenza, miniamo i nostri Laitoshi al giorno e ogni 24 ore entriamo nel sito e andiamo a prelevare comodamente sul nostro Fawcett Pay. Quindi, niente, io adesso vado a prelevare così vi faccio vedere anche che è pagante, ormai lo sappiamo a memoria, sezione Withdraw, quindi come vi dicevo andiamo a prelevare verso il nostro Fawcett Pay, per la versione gratuita ogni 24 ore ho visto che per il prelievo non fa superare questa soglia, quindi va benissimo, così è tutto gratuito, noi vogliamo rimanere sul gratuito, non vogliamo depositare nulla, non vogliamo investire nulla e non vogliamo eventualmente perdere soldi, caso mai questo sito dovesse sparire domani. Quindi, semplicemente clicchiamo sulla voce Withdraw to Fawcett Pay e ritroveremo i nostri Laitoshi comodamente sul nostro wallet Fawcett Pay. Il messaggio ci dice che i nostri Laitoshi sono stati mandati sul nostro wallet, andiamo su Fawcett Pay a controllare. Ed eccoli qui appena arrivati, 323 Laitoshi da Litecoin.host. Come vi dicevo, il miner si è riattivato, quindi tra 24 ore ritorneremo comodamente e in modo quindi assolutamente passivo, perché qui stiamo guadagnando senza fare assolutamente nulla e quindi passivamente, a prelevare ancora i nostri Litecoin sul nostro caro Fawcett Pay. Ricordo che qui si sta parlando di Cloud Mining e il Cloud Mining non va assolutamente ad intaccare le risorse del nostro dispositivo. Come vi dicevo all'inizio, c'è anche la versione per Dogecoin, per Bitcoin e per Bitcoin Cash, però ho visto che non so per quale motivo queste tre versioni non funzionano bene, sarà un problema del sito, sarà un problema che sono terminati i fondi, io questo non so dirvelo. Se siete interessati potete tranquillamente controllare di tanto in tanto se è cambiato qualcosa, quindi fare le stesse identiche cose che vi ho fatto vedere su Litecoin e prelevare comodamente anche i vostri Dogecoin, Bitcoin e Bitcoin Cash, funzionano tutti allo stesso modo. Questo ad esempio è il Mining di Dogecoin, io non vedo il tastino del login, non so perché accade questa cosa, può essere un problema momentaneo del sito, può essere che il sito non funzioni più, può essere che, non lo so, siano finiti i fondi, io questo non so dirvelo. Quindi se la cosa vi interessa il mio consiglio è quello di tornare di tanto in tanto su questi siti per vedere se si è sbloccato qualcosa. Intanto godiamoci i nostri guadagni gratuiti di Litecoin che abbiamo visto funzionare tranquillamente. Direi quindi che per oggi è tutto e io come sempre mi raccomando vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Mi raccomando like ai video, fanno sempre piacere e sostengono il canale. Ricordo che potete trovarmi anche sul canale Library, sul canale Telegram e sulla pagina Facebook. Trovate tutti i link necessari in descrizione al video. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.